Come è nato tutto questo, siete nel capitolo della storia e della teoria di Dao. In questo capitolo parleremo infatti della nascita di quelli che sono stati i padri proprio dell'analisi tecnica che in realtà non hanno concepito la materia, ma si sono semplicemente avvicinati a dei principi molto semplici ma molto resilienti, molto forti, che affondavano proprio le radici nella natura delle persone, che attraverso proprio l'utilizzo dei grafici hanno osservato e hanno pubblicato mano a mano appunto verso la fine dell'Ottocento. Quindi parleremo della storia e quindi della nascita proprio dei principi importanti dell'analisi tecnica e vedremo quali erano i importanti principi che hanno poi portato ai famosi tre principi dell'analisi tecnica moderna che riassumono un po' quello che era la principale scoperta storica. In questa lezione parleremo proprio della storia, quindi andrò ad illustrarti come è nato e soprattutto quando e in quali modalità appunto la possibilità di osservare semplicemente magari l'economia americana e in quel modo tirare fuori, estrapolare proprio degli importanti principi che hanno portato poi alla nascita dell'analisi tecnica. Ti cito semplicemente due nomi Charles Dow e Edward Jones quindi se metti vicini questi due cognomi otterrai Dow Jones sicuramente magari se in questo video lo vedi per la prima volta sei completamente acerbo dei mercati finanziari però magari ti è già capitato di sentire in un notiziario il termine Dow Jones e quindi magari la notizia che dice il Dow Jones oggi guadagna l'1% perde lo 0,50 bene questo Dow Jones sostanzialmente generalmente è un indice quindi un paniere appunto che racchiude e che dà appunto un'indicazione di massima di quello che è una situazione economica globale di un paese, di un settore, di un'azienda o magari di una singola area geografica eccetera ci sono indici veramente un po' per tutte le situazioni e tutti i gusti comunque parlando della storia appunto Charles Dow e Edward Jones erano due giornalisti finanziari tra l'altro questo è uno degli sbocchi, uno dei primi sbocchi che può avere proprio l'analista tecnico ancora oggi erano due giornalisti finanziari che volevano cercare di capire e di monitorare la salute dell'economia americana all'epoca appunto parliamo della fine dell'ottocento quindi tra il 1882 e il 1886 sostanzialmente in quest'epoca in questi due giornalisti si sono chiesti ma come possiamo fare per monitorare l'economia americana? beh all'epoca l'economia americana era dominata sostanzialmente dalle prime fabbriche, dalle prime industrie e dalle prime compagnie di trasporti in particolare trasporti ferroviari sostanzialmente e quindi misero insieme sostanzialmente un indice che monitorava l'andamento se positivo o negativo di quello che erano le industrie e l'andamento semplicemente di quelle che erano i trasporti ed è proprio dall'osservazione di questi due indici che vennero fuori proprio gli importanti principi che andremo ad elencare nelle prossime elezioni in particolare per controllare l'economia americana si faceva ricorso al Dow Jones Industrial e al Dow Jones Transportation che erano proprio due indici che uno seguiva l'economia delle aziende cercando di capire se tutte le aziende all'epoca stavano andando bene e se tutti i trasporti stavano andando bene quindi magari a volte c'è la possibilità che un indice vada bene ma in realtà perché poche azioni stanno facendo bene e questo ovviamente non è una situazione di salute ad oggi questa tecnica viene chiamata analisi di ampiezza allora ovviamente era semplicemente un'osservazione del fatto che se una sola azienda sta tenendo su un indice beh non è una situazione salutare perché se quell'azienda per caso inizia ad andare male l'indice è destinato a cadere e allo stesso modo cercando di capire la crescita delle aziende e la crescita dei trasporti si teneva proprio sotto controllo l'economia globale americana con questi due indici in queste successive immagini vedrai prima il DJI quindi il Dow Jones Industrial quindi preso dal suo massimo storico disponibile appunto fino ad oggi o comunque insomma gli ultimi dieci anni e poi il Dow Jones Transportation come vedi entrambi hanno sostanzialmente un andamento rialzista e qui possiamo vedere appunto un confronto puoi vedere appunto un indice colorato di blu e un indice colorato di rosso è proprio dall'incontro e dall'osservazione di questi due indici insieme che si poteva cercare di capire se effettivamente l'economia stava crescendo in una situazione di salute generale oppure se l'economia incominciava ad avere dei rallentamenti proprio l'osservazione di entrambi dava effettivamente la possibilità di capire che se le industrie continuavano ad andar bene e i trasporti continuavano a girare voleva dire che la domanda effettivamente nei negozi nei centri di distribuzione effettivamente era alta perché le persone magari volevano sempre quel prodotto se invece ipoteticamente incominciavano a rallentare le industrie quindi tutte le aziende incominciavano a rallentare mentre i trasporti continuavano ad andar bene allora questo cosa stava a significare magari che le industrie avevano scarsità di materie prime oppure iniziavano a produrre di meno oppure avevano tanto materiale magari accumulato nel magazzino perché le vendite magari erano rallentate quindi di lì a poco probabilmente ci sarebbe stato un rallentamento dei trasporti e quindi magari un inizio di recessione magari dell'economia generale questo è solo uno spunto ma è proprio con queste osservazioni che si andavano a trarre delle conclusioni oggettive non così a sentimento su quello che poteva essere proprio l'economia americana e vedremo infatti nel prossimo capitolo i principi importanti dell'analisi tecnica in questa lezione vedremo in maniera chiara e pratica anche con qualche esempio quelli che sono i principi che sia Charles Dow in particolare insieme a Edward Jones notarono proprio nell'osservazione dei due indici che abbiamo citato prima quindi le industrie e i trasporti questi principi dell'analisi tecnica importanti sono appunto sei che vennero in realtà poi codificati da altri teorici per cui Charles Dow non pubblicò mai un trattato dell'analisi tecnica ma osservò chiaramente questi principi e li pubblicò all'epoca nei vari articoli finanziari che vennero pubblicati dalla sua agenzia appunto giornalistica finanziaria ai tempi e poi diversi anni dopo appunto alcuni teorici cominciarono a mettere insieme tutti i criteri e a creare appunto un vero e proprio una vera e propria scaletta appunto teorica di quelle che erano le fondamenta e i principi importanti dell'analisi tecnica ed in questa lezione appunto andremo a vederli in maniera dettagliata i principi della teoria di Dow sostanzialmente sono sei della sua nascita poi come hai visto appunto sono stati riassunti in tre principi fondamentali moderni che sono quelli che abbiamo visto nei precedenti capitoli nelle precedenti lezioni il primo di questi principi recita infatti gli indici scontano tutto perché lui ovviamente osservando gli indici capiva e aveva già capito intuito che sostanzialmente ogni volta che c'era un problema magari che si rifletteva nella politica o nell'economia americana i prezzi già e questi movimenti già appunto dei prezzi lo avevano anticipato per cui già da questo appunto è direttamente collegabile proprio al primo principio dell'analisi tecnica che dice i prezzi scontano tutto nel suo caso l'osservazione era quello dei due indici e quindi l'aveva tradotto in gli indici scontano tutto ma il il fulcro di quello che c'è dietro sostanzialmente richiama sempre quello che è dietro anche al primo principio dell'analisi tecnica il secondo principio in realtà è un'osservazione di quello che aveva notato appunto sul movimento dei prezzi quindi quando dicevamo i prezzi si muovono in trend beh Dao aveva notato che il mercato nel suo complesso ha tre trend quindi tre tipi di movimento in realtà due tipi sono movimenti che generano effettivamente un andamento o una tendenza e che sono quelli più importanti mentre il terzo sostanzialmente è un movimento che se è ampio offre comunque opportunità di trading altrimenti sostanzialmente non c'è nessun tipo di opportunità il mercato da tre trend sono rialzista ribassista e laterale il trend rialzista è fatto da massimi e minimi crescenti costantemente nel tempo il trend ribassista è fatto da massimi e minimi decrescenti costantemente nel tempo mentre il trend rialzista è fatto da massimi e minimi orizzontali e costanti nel tempo va da sé che in un mercato laterale se questi massimi e minimi sono molto ampi e molto lontani fra di loro ovviamente ci sono comunque opportunità magari di operatività se invece questo movimento laterale è estremamente piccolo ovviamente non offre opportunità di movimento di guadagno in ogni caso notò appunto che il mercato aveva tre trend il terzo principio o meglio la terza situazione che osservò Charles Dow nell'osservazione del Dow Jones Industrial e del Dow Jones Transportation era che il trend primario aveva tre fasi una fase primaria una fase secondaria e una fase minore ovviamente il trend inteso nel suo senso più ampio quindi immaginate la successione per esempio di massimi e minimi costantemente crescenti nel tempo ovviamente aveva delle possibilità di magari ritracciamento o comunque magari lieve calo e poi ovviamente magari delle ripartenze quindi nel complesso il trend primario appunto che aveva la durata di almeno fino a un anno o addirittura tre anni era considerato a livello di anno diciamo con queste durate al suo interno aveva dei momenti magari di controtendenza questi momenti di controtendenza non necessariamente impattavano sul trend primario ma offrivano ovviamente delle possibilità di diciamo così rifiatare al mercato per poter semplicemente ripartire mi riferisco appunto alle correzioni secondarie o correzioni minori correzioni secondarie che avevano una durata magari fra le tre settimane e i tre mesi mentre le correzioni minori avevano una durata massima di tre settimane per cui si trattava di correzioni appunto minori immaginate in una in una marea quindi le le onde che arrivavano appunto sulla sabbia no e che lasciano magari il segno le correzioni secondarie poi ci sono tutte le varie correzioni minori che hanno meno impulso come sull'onda e quindi magari lasciano un segno più piccolo ma sostanzialmente l'onda più grande in realtà non è assolutamente cambiata quindi aveva identificato appunto le fasi correttive quelle che oggi noi chiamiamo i ritracciamenti pullback questi termini vogliamo intendere sostanzialmente delle piccole correzioni all'interno di un trend ben definito quindi lui aveva proprio osservato che c'era sì una tendenza importante di massimi minimi crescenti costanti nel tempo ma all'interno si evidenziavano comunque delle tendenze di impatto minore che effettivamente andavano a incontro tendenza no incontro corrente senza impattare comunque l'impianto originale quindi va da sé che la teoria di Dow si tendeva a tenere posizione fino a quando il trend primario era assolutamente intatto il quarto principio recita gli indici si devono confermare a vicenda questo ti ho fatto un veloce esempio appunto nella precedente lezione perché lui voleva vedere che crescevano sì le industrie ma crescevano anche i trasporti quindi fino a che entrambi gli indici effettivamente avevano una direzione confermata l'uno con l'altro significava che l'economia girava bene quindi le persone chiedevano quei prodotti i prodotti aumentavano ovviamente in senso di domanda quindi i trasporti funzionavano di più e ovviamente le fabbriche continuavano a produrre sempre più prodotti e nel momento in cui magari invece rallentavano i trasporti quindi l'indice transportation iniziava ad avere un calo perché i trasporti funzionavano di meno voleva dire che magari c'era un calo effettivamente della domanda nei negozi quindi le persone chiedevano di meno quei prodotti o quel prodotto i trasporti portavano meno prodotti al negozio perché il negozio non gliene chiedeva più di conseguenza le fabbriche accumulavano la materia prima o il prodotto che poi avrebbe portato a una successiva recessione appunto delle industrie quindi nel momento che uno dei due indici iniziava ad avere una situazione di cosiddetto traballamento ecco che era probabilmente destinato a seguirlo di lì a poco anche l'altra economia quindi le due economie si dovevano confermare effettivamente a vicenda il quinto principio recita il volume deve confermare il trend questo è un principio un attimino più tecnico ma te lo spiego anche con un semplice esempio nella prossima immagine in questa immagine puoi vedere una chiara tendenza rialzista evidenziata anche da una linea diagonale che sostanzialmente è una trend line che mi unisce appunto dei minimi che sono crescenti nel tempo e nel grafico sottostante puoi vedere i volumi quindi quelle barre blu sostanzialmente rappresentano quanti scambi ci sono appunto in una determinata giornata in questo caso stai guardando un grafico giornaliero di un mercato e come vedi mano a mano che il trend cresce nel tempo anche questi volumi tendono ad avere nella loro massima quindi in una loro osservazione di diciamo massimo zoom tendono ad avere una crescita costante nel tempo ecco questo tipo di crescita di volumi significa che le persone partecipavano attivamente a questa crescita non era una crescita dei prezzi senza partecipazione magari con una sola persona che speculava in poche settimane e spostava magari tutto il mercato ma c'è una partecipazione attiva costante e soprattutto crescente nel tempo questo è sostanzialmente il volume deve confermare il trend perché una delle prime osservazioni che fece Dow è che se non c'era il volume di partecipazione di lì a poco il prezzo si sarebbe probabilmente un attimino seduto un attimino indebolito sostanzialmente è la stessa relazione che devono avere i due indici quando dicevamo i due indici si devono confermare a vicenda anche qui il trend costantemente deve salire ma continuerà a salire soprattutto se ci sarà una continua partecipazione appunto con i volumi l'ultimo principio della teoria di Dow recitava che un trend è in atto fino ad un chiaro ed evidente segno di inversione di tendenza per cui fino a che non arrivava effettivamente non una correzione secondaria non una correzione minore ma una correzione impattante definitiva molto chiara che andava a invadere quello che era il trend primario effettivamente non c'era nessun motivo di abbandonare l'idea di perseguire magari una determinata tendenza quindi questo è molto importante ed è una regola psicologica importantissima quante volte magari le persone inesperte fanno l'errore di abbandonare un titolo abbandonare un investimento alla prima semplice correzione per poi vedersi quello stesso investimento crescere di un altro 40 50 70 80 per cento e loro invece magari tu sei uscito sei rimasto fuori sei rimasto a piedi questo perché ti sei spaventato magari della prima e semplice correzione e questo ovviamente Dow l'aveva ovviamente notato cosa notava che appena c'era un po' di correzione il prezzo subito cadeva i volumi aumentavano perché la paura prendeva subito piede sul sul mercato ma in realtà poi i prezzi costantemente ripartivano perché c'era una sorta di presa di respiro nel mercato l'economia comunque non può crescere costantemente con un ritmo sempre accelerato ma ci sono appunto dei momenti di respiro e in realtà sono proprio quei momenti di respiro che permettono all'economia di crescere in maniera stabile e costante nel tempo le accelerazioni le esagerazioni non fanno mai bene e non sono mai sostenibili né ovviamente a rialzo e ovviamente nemmeno a ribasso quindi ecco che questa regola è già una regola non solamente tecnica ma già si porta a livello psicologico delle persone quindi ti sta comunicando un messaggio proprio di dire analizza bene in maniera fredda e distaccata quello che è l'andamento effettivo e oggettivo prima di dire e di scegliere di abbandonare magari una posizione o un investimento e quindi questo è questi sono appunto tutti e sei i principi fondamentali e più che altro sono osservazioni che Charles Dow ed Edward Jones fecero nell'osservazione appunto dell'andamento dei due indici con lo scopo appunto di monitorare l'economia americana e chiudo questa lezione questo capitolo leggendoti proprio insieme questa bella citazione che riassume di per sé tutto il mercato il fattore più importante che dà forma ai mercati azionari è la psicologia umana